Pippo Verde Pippo Verde Pressoché completa sui copioni Partendo dalla fine dell'ottocento E ho cercato di raccogliere quelle parti di copione Che parlano espressamente di cibo, di mangiare Poi dico anche il significato antropologico del mangiare a carnevale Per cui ho messo insieme questo materiale, l'ho elaborato e ci ho fatto le riflessioni In pratica mangiare a carnevale aveva un significato di augurio Cioè chi era povero doveva procurarsi da mangiare Perché era una festa a cui non si poteva mancare Tanto che nell'anno della peste 1626 I giurati di Sciacca mandano dei pezzi di carne ai cappuccini Che avevano assistito gli appestati nel lazzaretto Perché non doveva mancare il mangiare Né a loro né agli orfanelli dell'istituto Menichelli E' la prima notizia che abbiamo del carnevale In un anno lottuoso, di morte Quindi non c'era il divertimento per strada Ma a tavola si doveva mangiare come segno di augurio Di questa tradizione culinaria oggi che cosa rimane? Beh a carnevale si mangia intanto carne Carne fatta in un certo modo La salsiccia che vediamo distribuita dal carro di Peppe Nappa Ahimè non si distribuisce più il vino Che è stata una tradizione E in questa serata parlerò anche della funzione delle taverne e del vino E mi sta venendo una cosa importante da dire Del significato antropologico Cioè quando la persona mangiava insieme Ci si augurava Ci si augurava il bene E poi il pranzo si concludeva con il mangiare dei semi La calia, lo scaccio, la semenzia Che avevano significato Il seme era anche quello che aveva già seminato il contadino Perché il carnevale nasce come festa agraria E Asciacca di Lossasera ha delle radici molto lontane Addirittura non solo con i saturnali romani Ma addirittura ancora prima Perché Asciacca abbiamo trovato Nelle grotte del Cronio Dei pasti consumati a scopo rituale dentro il Cronio E ultimamente quest'estate si è saputo che uno dei vasi preistorici Doveva contenere in modo scientifico, lo sappiamo, del vino Quindi questo vino e questo cibo consumato dentro il Cronio Ci fa pensare a un culto legato al cibo E consumato qui Non era chiaramente carnevale Però ci fa pensare quanto questo territorio Fosse attento a questo aspetto del mangiare Tra l'altro un territorio vocato all'agricoltura E quindi anche gli exivoto che abbiamo trovato Nell'antro di Fazello stanno a significare questo senso propiziatorio Per il seme, per l'agricoltura Quindi il legame tra carnevale e agricoltura c'è stato E' una festa che nasceva tra i contadini Poi venne anche trasferita in ambiente marinaro Tanto che Peppe Nappa a un certo punto negli anni Ottanta Cominciò ad arrivare anche dal mare Vice sindaco Stasera parliamo di carnevale come una festa Come ci ha spiegato l'esperto Pippo Verde di Panza Che ha una grande tradizione culinaria L'esperto ha parlato anche di questa tradizione Di accompagnare il vino a carnevale Anche lo stesso Peppe Nappa Insomma è rappresentato un po' così Possiamo dire ubriacotto Cosa si sente di dire il Comune di Sciacca In questo momento dove come ogni anno Lancerà la sua campagna istituzionale Per sensibilizzare i giovani e non sono? Ma io mi sento di ripetere quello che è un po' il motto Lo spot che abbiamo deciso quest'anno Abbiamo concordato insieme al CERT di Sciacca All'organizzazione che sta realizzando il carnevale Vivi il carnevale È un appello rivolto a tutti Giovani, adolescenti, adulti A vivere questo carnevale in modo sano Non necessariamente passando attraverso la sbornia L'ubriacatura a tutti i costi Come diceva lei Il bicchiere di vino ha sempre accompagnato I momenti di festa, le celebrazioni Appartiene all'antica Anche al mondo classico Quindi niente di nuovo Però invitiamo tutti A partire dagli adulti A fare un uso controllato Dell'alcol Perché abbiamo un compito importante Dobbiamo testimoniare Che si può vivere il carnevale Senza per forza ubriacarsi 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 Per forza ubriacarsi